19 febbraio 2008 Fidel Castro, decano dei dittatori, dopo 49 anni lascia la presidenza e la carica di comandante in capo a Cuba Lo fa con un messaggio che porta la data del giorno precedente, comparso sull'edizione online del quotidiano cubano Granma, l'organo ufficiale del Partito Comunista Cubano Dal 1959 in poi, Castro era sempre stato rieletto dall'Assemblea Nazionale alla carica di Presidente del Consiglio di Stato